Grazie a tutti Ma non è vero La Mati contro PA Chi vincerà questa sfida? Ecco la strategia del PA Mati 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 No funziona, è incredibile Ho appena fatto la cacca in casa ed è tutta triste Mati Cosa hai fatto? Cosa hai fatto Mati? Amore mio Mati cosa pensi? È andata via Adesso che è andata via puoi fare finta di sbattertene Quella verità è che Mati se ne sbatte Beh volevamo ringraziare il simpatico ladro che si è rubato i pulsanti di controllo della BMW e lo schermone E adesso lo vedremo in giro che pensa che sia un tablet tipo perché mi dice di girare a destra? Simo Hai voluto il Moog? Adesso Moog Io non ci sto Ci metto la faccia La vera domanda è loro cosa fanno? Cioè guardano le trote nel naviglio Cioè non ci sono scavi Sono finiti gli scavi Scusate? Sono terminati Anni fa Un anno fa Quando sono terminati? Un anno fa E non ci sono più scavi Io ci sto Ci metto la faccia Signora lei ci mette la faccia? Per esempio il banco d'esio non ci mette la faccia Si vede che non ci mette la faccia Vabbè adesso accompagno Vedete lei non ci mette la faccia il banco d'esio Stiamo facendo un pezzo No sì ma questo abbiamo Non funziona Ma io l'ho già sentito No no secondo me è una bomba È una hit 100%